coltello sharp condor coltellino sharp interamente in acciaio con impugnatura con degli inserti in gomma antiscivolo infatti è molto molto particolare perché aderisce benissimo alle mani a una lama che si può aprire one and con una mano muovendo semplicemente il pollice in questa maniera qui clip sul retro per agganciarlo nella cintura per inchiuderlo basta premere leggermente questa sicura zigrinata per agevolare l'utilizzo del pollice e poi si ripiega con una mano anche questo potrebbe venire un coltellino che si potrebbe aprire per gravità dando una piccola facendo sempre quel movimento che serve per aprirlo con po di pratica si riesce a imparare